Gio di Tonno, Piero Mazzocchetti, il tenore Nunzio Fazzini, Emanuela Rico, Manuela Navelli. Saranno i protagonisti venerdì 16 dicembre insieme all'orchestra filarmonica di Moscufo e Friend e al conservatorio Luisa D'Annunzio al teatro Circus del concerto Mille Volte Grazie, sostenuto dalla Fondazione Pescara Abruzzo in segno di solidarietà e sostegno al reparto Covid dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. La solidarietà sul tema più sensibile che abbiamo vissuto negli ultimi anni con il Covid-19. Lo si fa con il linguaggio più universale, con la musica, con artisti di grandissimo valore. Il CD si presenta con un sostantivo che rischia desuetudine, la parola grazie. Dire grazie in questo periodo non è uno sport molto agevole. Noi vogliamo dire grazie al mondo della sanità, a tutti quei mondi che contrastano questo terribile virus. Noi abbiamo sofferto moltissimo il periodo del Covid e avvertiamo in questo momento il rischio della rimozione di questa fase, del dimenticare quanto dobbiamo al mondo della sanità, in particolare al professor Parruti, che è stato un punto di riferimento fermo ma mai allarmistico e ha usato sempre un tono che è stato prezioso per tutti noi. La presentazione del concerto, promosso a conclusione del trentesimo anniversario della Fondazione Pescara Abruzzo, è servita anche a fare il punto Covid e influenza col professor Giustino Parruti. C'è un incremento delle attese ricovero in pronto soccorso, sempre a carico di una prevalente popolazione geriatrica, ma insomma dobbiamo cercare di ampliare un po' l'adeggenza medica Covid, perché come era atteso da tutto quello che avete sentito dai media nazionali e locali, c'è un aumento della circolazione che di necessità un po' si riflette in un aumento della domanda di ricovero. Moderata per il momento, complessivamente sono 70 i pazienti Covid e 30 quelli che quotidianamente invece valutiamo in the hospital per le misure preventive, io sono sempre più soddisfatto di questa componente che sta funzionando molto bene, però insomma 70 pazienti, molti con esigenze di tipo diverso dalla gestione di una polmonite Covid, però insomma sono 70, non sono 2 o 10, questo è il concetto.